Iniziamo oggi a vedere quello che vi torturerà per il resto del vostro semestre, cioè Envimet. Però non prendetela come una tortura, vi prego. Se potete, prendiamola con filosofia, altrimenti non usciamo vivi. Già negli scorsi semestri spesso e volentieri era un lago di sangue, questo giusto per tranquillizzarvi, però quest'anno spero che, diciamo, con quel supporto che riesco a darvi, troviate un po' di sollievo almeno in questo. Allora, ho capito che molti di voi per fortuna vanno già visto il video, quindi magari io sarò più rapido rispetto ad alcune questioni che magari sciolinerò meglio all'interno appunto di quei tutorial che abbiamo già potuto vedere sulla rete. Andiamo a vedere quindi di farlo partire da subito, vi ricordo fatelo partire sempre come amministratore e andiamo a vedere. Quello che vi presenterò da subito oggi è un, diciamo, un escursus del workflow dell'utilizzo di Envimet, quindi la costruzione del modello, la costruzione attraverso il config wizard del file che contiene i dati meteorologici piuttosto che altre indicazioni che dicono a Envimet come eseguire questo calcolo. Andremo a vedere Biomet che è il, diciamo, il configuratore del, o meglio, il calcolatore dell'indice di comfort e andremo a vedere Leonardo. Leonardo che ha, diciamo, che dà la possibilità di leggere gli output, quindi di andare ad analizzare effettivamente come si è comportato il modello. E vabbè, velocemente vedremo anche come farlo partire questo calcolo, anche se giustamente per ovvi motivi di tempistiche non potremo fare un calcolo intero perché, come avete, insomma, già intuito, il calcolo sarà abbastanza oneroso e quindi ci metterà anche una settimana, volendo, per una sola giornata di calcolo. Allora, cominciamo da Spaces. Una volta aperto Spaces, la prima cosa che dobbiamo fare, come vi dicevo anche nei video, è caricare un progetto. Eh, scusate, allora, già ho sbagliato qualcosa perché voi non avete un progetto, giusto? Andiamola a fare un progetto. Il progetto va, si può gestire da quest'altro lato, col manage project and workspaces. Per fare un nuovo progetto, velocemente vado su create new project, inserisco il nome del progetto, prova, e vado a inserire anche il nome della cartella. Se non lo fate questa, non fate questa modifica, il progetto continuerà a chiamarsi prova, però si verrà inserito nella cartella new project. Quindi fate attenzione a questa cosa, magari la chiamiamo entrambi con la stessa, con la stessa nomenclatura e dove andranno salvati questi progetti? Nel mio caso, nella cartella C, NVMet project, new project, che adesso verrà modificato. Appena creo appunto il nuovo progetto, lui mi diceva, guarda, prova non esiste, lo vogliamo fare? Sì che lo vogliamo fare, certo. L'ha creato il nuovo progetto, l'ha chiamato, no scusate, avrei dovuto mettere applica, ma sono stato, ho sbagliato, perdonatemi. Allora, nel creare il nuovo progetto, cominciamo male, cominciamo molto male, non mi fa più fare niente, chiudiamo, riapriamo. Allora, prova, si è applicato da solo, in qualche maniera. Stiamo per esplodere? Allora, dove mi ha creato questo progetto? L'abbiamo creato qui nella cartella NVMet project, che eventualmente, voi, sarà diversa questa cartella. Il workspaces, appunto, che viene definito in questa cartella può essere modificato cliccando qua in alto a destra e decidendo la cartella che più preferite. Abbiamo la cartella appunto prova, ci sarà al suo interno due, ci saranno due file. Questi due file sono riferiti al database, database locale. Vabbè, questa è una distinzione che poi capiremo meglio e che però sarà utile a voi da trasportare da un computer all'altro, per esempio, quando avete inserito materiali fatti da voi, quindi materiali che non esistono già di default nel database di NVMet oppure piante, oppure altro e che vorrete far girare su un altro computer. Per esempio, se non è questo appunto il computer che utilizzerete per il calcolo, per forza di cose dovrete fare attenzione a spostare tutti i file della cartella prova. All'interno di questa cartella dovrà essere salvato anche il file .inx e il successivo file di configurazione che vedremo. Quindi, nella cartella prova andremo a inserire tutto quanto quello che farà girare l'universo di NVMet. Per ora possiamo chiuderla, questa cartella, abbiamo creato il nostro primo progetto e andiamo a riaprire prova qui. Non lo trovo dentro Spaces perché in maniera errata ho fatto partire prima lui e poi ho fatto il progetto, quindi chiudo e riapro e giustamente adesso lo ritroverò a prova. Lui farà il caricamento di quei database che in questo momento comunque sono vuoti e andiamo a vedere come è strutturato questo Spaces. Allora, Spaces quando lo apriamo da subito lo troviamo configurato in una maniera abbastanza user-friendly direte voi. Magari abbiamo sopra una sorta di ribbon bar simile alle configurazioni dei prodotti Microsoft piuttosto che Autodesk negli ultimi anni, quindi con un'interfaccia a schede selezionabili dall'alto. Lateralmente, sulla sinistra, abbiamo una seconda interfaccia a schede dove effettivamente possiamo trovare quelli che sono i vari comandi di EnvyMet, quindi da dove possiamo prendere i vari building piuttosto che la vegetazione, piuttosto che i single wall e altro. E nella parte centrale andiamo a individuare lo spazio di lavoro operativo, lo scenario, in questo caso visto dall'alto in pianta. La maglia sarà sempre comunque quadrata, benché voi possiate comunque scegliere un dimensionamento diverso di queste celle, quindi potrete scegliere anche una maglia rettangolare e qui verrà visualizzata sempre quadrata. Quindi il mio consiglio da subito scegliamo maglie quadrate e non ci sbagliamo mai, almeno per la pianta maglie quadrate, poi in alzato vedremo come è possibile effettivamente affettare il nostro modello con sezioni non regolari, o meglio che non riportano al cubo ma anche al parallelepipedo, andrà benissimo. Dove si settano tutte queste impostazioni di base. Andiamo su Basic Setting New Area e vediamo da subito un sacco di informazioni. Questo è uno dei pannelli fondamentali di EnvyMet. Qui andiamo a impostare da subito la grandezza della griglia, o meglio il numero di quadratini o anche detti di cubi di cui la griglia tridimensionale è composta, quindi su x, su y e su z. Il numero delle celle di nesting, ovvero delle celle bianche che in questo momento noi non vediamo ma che verranno aggiunte automaticamente da EnvyMet al momento del calcolo e dovranno essere opportunamente dimensionate rispetto al modello in modo tale da non uscire dalle griglie massime che vedremo poi dovranno essere quindi valutate queste informazioni in quanto la nostra griglia che vediamo qui dovrà essere virtualmente inserita all'interno di un'altra griglia che è la griglia di calcolo. EnvyMet, vedremo con calma successivamente, ci da a disposizione ben tre griglie di calcolo. Bassiamo tutto e rivediamo le griglie di calcolo di EnvyMet. Sono tre e sono la 100-140, 150-150-35, 250-250-25. Come potete vedere questi numeri sono riferiti al numero di celle su x, su y e su z, dove x e y sono gli assi a terra, z è l'asse verticale. All'allargarsi in pianta del modello, alla possibilità di allargarsi del modello, corrisponde sempre un abbassarsi del modello in modo tale da avere un massimo di circa 1.200.000 errotti nodi di calcolo nella maglia 250-250x25. Mi sembra abbastanza scontato, però ve lo dico lo stesso, che utilizzando la versione 100-100x40 ovviamente il calcolo sarà più breve rispetto a una versione 250-250-25, proprio perché matematicamente sono meno nodi da calcolare. Quindi in questo momento potrebbe essere strana questa cosa, perché io devo calcolare i nodi? Poi vedremo, i calcoli che farà Endymet appunto, essendo un programma che va a sfruttare una parte della matematica che analiticamente non è possibile risolvere, lui che fa, discretizza il problema in punti. Questo l'avevamo già accennato duemila volte almeno la professoressa Coccirifoni. lui che fa, nel fare appunto questa discretizzazione ovviamente inserisce un nodo per ogni punto e lì andrà a effettuare il calcolo. Questo è uno degli espedienti che è stato utilizzato dai programmatori di Endymet piuttosto che dai programmatori di un sacco di altri CFD per ovviare all'impossibilità di risoluzione di quel problema matematico. Allora, tornando a spaces, scusate l'escursus. Dopo, una volta impostata la grandezza della griglia che voglio realizzare, avrò a disposizione, no, dovrò inserire altre informazioni o meglio il passo della griglia. Quando vi parlavo di mantenere almeno in pianta un passo quadrato, una maglia quadrata, era proprio a questo che mi riferivo. Io posso decidere di utilizzare un DX da 2 piuttosto che da 5 piuttosto che da 0,5 metri. Attenzione, questi sono riferiti in metri ed è scritto anche qua, size of grid cell in meter. L'unica cosa che vi chiedo, appunto, è di fare attenzione. Se inserisco un DX5, vorrei anche un DY5 per mantenere quadrata quindi questa maglia. Per quanto riguarda il DZ, invece, questa potrebbe essere variabile. Potrebbe essere 6, potrebbe essere ancora 5, ma non deve essere per forza cubico. A seconda delle necessità potrebbe variare. Faccio subito il riferimento al gruppo, secondo me un po' più sfortunato in questo senso, ve lo devo dire, che è quello che lavorerà a Piazza del Popolo. Beh, loro saranno costretti, come avete già notato dal sopralluogo, a confrontarsi con altezze decisamente variabili. Cioè, si passa da Piazza del Popolo vera e propria, che sta a terra, fino a Villa Borghese, che qualche metro in su si sale, no? Lo avete notato. Questa cosa qui su Emimet si traduce nel problema, appunto, di doverlo far rientrare, quel modello, all'interno di uno spazio massimo preconfigurato e confinato lì. Dei 250 per 250 per 25 per essere buoni, oppure 100 per 40, se vogliamo stare un po' più, diciamo, in uno spazio più piccolino, ma che ci permette di avere un'altezza maggiore. Detto ciò, io vi consiglio da subito di utilizzare non l'impostazione equidistante, che malgrado la nomenclatura equidistante, uno pensa che creerà celle tutte uguali, ma la versione telescopica. Nel video poi vedrete, se già non l'avete fatto, il perché è spiegato molto bene. Qui velocemente, adesso vi chiedo di prenderlo anche come dogma di fede, però prendete la versione telescopica senza modificare però i fattori di estensione, quindi mantenendo 0,0 da questa parte qui. In basso potrete impostare da subito un materiale unico per tutti quanti i wall material, poi andremo a vedere di che cosa stiamo parlando, comunque per capirci da subito stiamo impostando con il wall material il materiale dei building che verrete a costruire, ma non il materiale di tutto il building, solo quello, scusate, delle pareti verticali. Le pareti orizzontali, o meglio i tetti, saranno identificate con l'altro, il roof material. Io adesso da subito vado a impostare un materiale diverso, guardate, metto a casaccio un vetro. Non voglio sapere né perché né per come di questa scellerata decisione, ma giusto per farvi capire come cambierà l'impostazione al disegnare i building con due impostazioni del materiale diverso. Una cosa che mi sono accorto di non aver inserito, diciamo, in quel video su questa parte qua e che preciso adesso, visto che ne ho l'occasione, è la direzione del nord. Abbiamo a disposizione una maglia quadrata, questo era ben chiaro, ma purtroppo non abbiamo a disposizione Roma fatta su assi quadrati, precisamente disposti sul nord, sud, est, ovest. Ma le maglie che troverete a Roma, come in qualunque altra città del mondo, essenzialmente, saranno... Sì, vabbè, a parte a Roma c'erano Cardo e Decumano, sì, ok, forse sembra quasi un controsenso. Però Roma, come la conosciamo adesso, non è proprio Cardo e Decumano che può rientrare perfettamente in una griglia. Ma la disposizione degli edifici, adesso andiamo a vedere da subito, con un esempio, ecco. Benché, ecco, nella parte nord, magari, dell'area di Piazza del Popolo, che ho l'esempio qui, sembrerebbe una griglia regolare. Ma già nella parte sud, sotto Piazza del Popolo, diventa una maglia divisa in, per esempio, in isolati che vanno a riformare un triangolo. Ecco, il triangolo non rientra, ovviamente, nella maglia regolare quadrata. Quindi, sarebbe auspicabile regolarizzare questa maglia il più possibile, orientando, quindi, questa porzione di terreno, anche con Photoshop, parlineandola più possibile a un verticale, un orizzontale perfetto, in modo tale da evitare, diciamo, la scomposizione pixelosa degli edifici. Il più possibile, cioè, nei limiti del possibile. Ovviamente, qui non è che sarà perfetta questa cosa, per il fatto, appunto, che sotto abbiamo dei triangoli, e quindi, oh, non vuoi, usciamo da quella griglia triangolare. E quindi, qualcosa uscirà pixelato, per forza di cose. Questo problema, tra l'altro, viene completamente rimosso quando, dopo aver visto l'inserimento manuale su Envy, mettendremo a vedere, anche l'inserimento tramite Rhinoceros e Grasshopper, che a lui non gliene importa niente se quello è un edificio triangolare, tondo, quadrato, cubico, non gliene importa niente. Lui lo suddivide in cubetti e fa velocemente il lavoraccio che dovreste fare voi, altrimenti, a mano. Con questo, che cosa voglio dirvi? Per orientare bene la vostra mappa, dopo aver, quindi, ruotato, magari, con Photoshop, di tot gradi, andrete a inserire quei tot gradi, appunto, in questa casellina di testo qui, che vi chiede, appunto, di quanto è girato il nord, rispetto a un nord vero che io considero perfettamente verticale. Allora, vabbè, con un po' di pazienza saprete voi quale valore inserire. Nella parte appena sotto, invece, troviamo informazioni riguardanti longitudine e latitudine del posto che andrete a considerare. E a cosa mi può servire? Ve la posso fare una domanda? No, non ve la posso fare. No, cosa può servire andare a definire di stare a Essen in Germania, piuttosto che a Berlino, piuttosto che a Roma, di cui adesso non abbiamo le coordinate. Qualcuno vuole tentare? Cosa cambia il clima? Beh, però, aspetta, adesso ancora non lo sai, sì, è vero che cambia il clima, adesso non lo sai, però le informazioni riguardanti temperatura e umidità le inseriremo noi. Lui non lo sa, sì, a Essen potrebbe essere pure un posto caldo per quanto gli riguarda. Ecco, l'inclinazione del sole, sì, quella sì. Cioè, lui effettivamente va a monitorare il sun path, quindi il percorso solare, e a seconda di latitudini e longitudini, questo varia moltissimo. Per trovare rapidamente quali sono le latitudini e longitudini di Roma, come facciamo? Beh, io vi consiglio di andare a vedere, tipo, su Google, map, no, facciamo la map direttamente. Anzi, io ce l'avevo, eccolo qua. Piccolo trick su come trovare le coordinate di Roma. No, non mi dà Roma, a te dà Roma? Ah, voi c'avete Roma, wow. Sì, però c'è un trucco, in realtà c'è un perché, ve lo so. Avete ragione, c'è Roma, però guardate un po' queste informazioni. Io adesso vado a vedere le informazioni di Roma, non Ascoli, ma Roma, Piazza del Popolo. Va bene, abbiamo un sacco di novità. Benissimo, grazie che mi avvisi. Allora, se vado a cliccare con il tasto destro e gli chiedo, scusami, ma cosa c'è qui? Lui mi darà delle informazioni, qui in basso, riguardanti appunto le coordinate, che sono leggermente diverse da quelle che mi dava il programma. Chi avrà ragione? Avrà ragione Google o avrà ragione EnvyMet? Boh, scegliete voi. Volevo, avete ragione, c'era Roma, ma io facevo riferimento sempre a Google per questa motivazione della differenza, che poi non è tantissimo, però magari è un quel tocco in più di precisione che magari non guasta. Quindi andate a inserire comunque il valore che volete, alla fine non è che ci offendiamo se lasciate questo di default. Per quanto riguarda invece l'ultimo dato di cui vi parlerò, è un riferimento rispetto allo zero del DEM. Il DEM, per DEM si intende, diciamo, il terreno. Io la prima volta che ho sentito parlare di DEM, un attimo ho sorto il naso. Io sono abituato a sentire questa parolaccia all'interno di programmi come GIS, come QGIS, piuttosto che ArcGIS, dove per DEM si intende un file contenente informazioni delle altezze del terreno. Può essere recuperato in mille modi, questa altezza del terreno. In uno dei video abbiamo visto come stare, per esempio, queste altezze direttamente da Google Earth, da Google Map che sia. In questo caso, per DEM però, non si intende quindi un file importabile con le altezze del terreno, ma si intende semplicemente l'altezza del tuo terreno, ok? Quindi, l'utilizzo, secondo me, è leggermente improprio di questa parola. Un attimo può portare a incomprensioni, perché io la prima volta che mi hanno detto, ah, abbiamo bisogno di fare un DEM, gli ho detto, perché ne ci vuole? Vai su Google, cercati come si scarica un DEM e inseriscilo all'interno di Endymet. Non è possibile, ve lo dico da subito. O meglio, è possibile, e poi vedremo come, attraverso Grasshopper, con un espediente che mi è venuto in mente, un po', diciamo, scopiazzato, me lo permetto di dirlo, da chi prima di me è intervenuto in questo campo. In ogni caso, all'interno di Endymet, quindi, andremo a costruire pixel per pixel, passatemi il termine, il terreno, tanto come costruiremo pixel per pixel i building, i single wall, piuttosto che inseriremo gli alberi. Ora, facciamo riferimento, diciamo che l'altezza del nostro terreno a zero, o meglio, dove rimarrebbe bianco, è zero, ma potrebbe essere tranquillamente a Roma un altro valore, poi scopriamo pure se c'è modo di capirlo e quale valore è. A quel punto inseriremo un valore più preciso. Per ora teniamo zero e vedremo cosa succede. Una descrizione, se volete, nella parte inferiore di questo pannello vi darà modo di ritrovare velocemente quale versione avete inserito, cioè quale versione è del modello, perché potrebbe succedere che dovrete fare più versioni del modello di calcolo e quindi potrebbe essere utile inserire una descrizione che vi faccia capire di che stavate una nota, diciamo, a margine. Applichiamo velocemente le impostazioni e vediamo che apparentemente non è cambiato nulla. Allora, io vi avevo detto, avevo lasciato 60x60x60. Prego. Sì, ho messo apply. Create new praticamente non lo uso mai io, di solito, a meno che non voglio ricominciare da capo. Ma a quel punto faccio un nx nuovo, è la stessa cosa. Apparentemente quindi non è cambiato nulla sul mio file. Come vedo, vedo ancora una maglia quadrata, 60x60, perché 60x60 è rimasto il mio, diciamo, la griglia che avevo impostato, è rimasta quella. Se volessi cambiarla, da subito potrei farlo, mettendo per esempio 30x30x30 applicando, ecco, mi si riduce l'area a mia disposizione. Vi ricordo che nella parte centro-nord, diciamo così, dello schermo, ci sono i comandi riguardanti almeno lo zoom. Quindi, fatene buon uso, in quanto sono strettamente collegati alla visualizzazione 3D. Poi capiremo in che senso sono strettamente collegati alla visualizzazione 3D e vi torneranno spesso utili. non funzionano purtroppo la, diciamo, la rotella del mouse, non funziona il control più rotella, solo loro. Sono tasti a schermo che prima o poi, spero, vengano invece implementati in una modalità di utilizzo un po' più user-friendly. C'è anche un riferimento al vero nord rispetto a quello che avete inserito. Per esempio, se io avessi inserito 30, ecco, vedete che 30 gradi adesso puntano di là. Quindi, all'aver ruotato in una certa maniera su Photoshop il mio modello, questo nord dovrà corrispondere al nord originale e inserendo un valore in gradi corrispettivo dovrebbe tornare tutto a posto in ogni caso. Andiamo a inserire un po' qualche elemento. Il primo che vedremo ed è necessario inserirlo da subito, poi vi dico perché, è il terreno, il DEM. Allora, cliccando sulla scheda DEM qui lateralmente vediamo che compare una, diciamo, una scheda dove posso inserire un solo valore, inizialmente XX, ma se vado a trasformarlo con per esempio un 4, posso cominciare a pennellare parti del mio modello costruendo un modello, costruendo un terreno alto 4, 4 cosa? 4 metri, però attenzione, 4 metri e qui è una cosa che è difficile davvero anche per me per spiegarla, quindi vi prego di fare, di aiutarmi su questo. Siamo sicuri che sarà davvero 4 metri? Allora, andiamo a vedere una cosa qua, io qui avevo inserito un DX di 6 metri, un DIP e un DZ, quindi in altezza, in alzato, di 6 metri, quindi 4 metri in realtà saranno sotto a questi 6 metri, nella suddivisione verticale, quindi non potranno essere visualizzati, non potranno essere descritti 4 metri. per farvela capire meglio andiamo nella visualizzazione 3D, andiamo nella visualizzazione 3D del modello, cliccando nella scheda adatta, Open 3D View, quando vi parlavo di zoom, in questo caso faccio un avanti e dietro con il modello 2D, se io mi ritrovavo in una visualizzazione a 30 pixel per la griglia, cioè molto ravvicinata, aprendo l'Open 3D View, questa qui mi avrebbe rappresentato un modello un po' più zoomato, in questo caso si vede lo stesso, ma se il modello appunto rimanesse nella 3D View scomparisse, che io magari non riuscissi a muovermi anche per tanti motivi, perché vedrete che si rallentano anche si rallentano anche vi faccio partire questo che vi fa capire cosa sto premendo, si rallentano anche i comandi diciamo di rototraslazione all'interno del modello 3D, beh a questo punto può essere comodo zoomare indietro e riaprire la 3D View, vedrete che i comandi saranno molto più fluidi e magari riesco anche a mostrare la griglia che prima non vedevo. Ora qui vediamo una trasposizione tridimensionale di quello che avevo disegnato io mi si vede anche da subito il cursore che rappresenta un parallelepipedo grande quanto la maglia impianta e alto 4 metri però come vedete gli oggetti che avevo precedentemente disegnato in 2D non sono alti 4 metri lo si capisce da un confronto diretto ma sono alti 6 metri perché lui che fa va subito ad approssimare alla cifra più vicina per eccesso in questo caso la cifra più vicina del DZ quindi anche quando io vado a disegnare creando in 3D possiamo creare anche delle aree omogenee dei rettangoloni diciamo così lui va a costruirli alti quanto il minimo richiesto dal DZ 6 metri ok ora questa cosa qui è una diciamo è una è una strazione che dovete cominciare ad avere da subito a seconda della scala su cui stiamo lavorando per esempio il microgruppo lavorerà su aree molto grandi il microgruppo su aree un po' più piccole questo DZ cambierà specialmente se siete così fortunati da lavorare a Villa Borghese ok poverini voi non vi invidio molto però che ci dobbiamo fare vi tocca gli altri avranno altre difficoltà non vi preoccupate perché appunto vi confronterete con per far rientrare tutto il modello con DZ probabilmente abbastanza elevati e i vostri edifici in qualche modo dovranno rientrare saranno approssimati a quel DZ anche se non diciamo se avesse un DZ appunto da 6 metri edifici di un piano beh capite che 3 metri verranno portati a 6 ci interessa a quella scala potrebbe non essere così rilevante quindi non vi preoccupate troppo quando scendiamo di scala invece 3 metri potrebbero essere considerevoli e quindi uno scarto di 3 metri non è accettabile alla grande scala diciamo di sì però prendiamo le mie parole prendetele per favore con le pinze perché voi da caso a caso potrebbe cambiare io non ho fatto una valutazione attenta sulle altezze effettive del di di piazza del popolo di Villa Borghese ma a naso immagino che vi riscontrerete con un problema del genere quindi ve lo anticipo ok una volta disegnati i terreni e vi prego di andare a ritrovare di andare a ritrovare il video in cui estraggo vi faccio vedere come estrarre oltre la mappa anche no scusate quella è una bella immagine ma non c'entra anche le altezze diciamo i contour le curve di livello di quel terreno in questo caso ho usato un'area verosimile a quella di piazza del popolo e di Villa Borghese dove vediamo appunto in quest'area come il dislivello è notevole qui non mi ricordo se avevo fatto tagli a 5 a 6 metri questi tagli ovviamente potranno essere restituiti solo con maglie simili anche all'interno di Envymet stavo tralasciando una parte importante la professoressa ha già annunciato che dovete inserire solo delle bitmap in questo caso per anche l'avevo già fatto vedere nel video comunque avevo già creato delle bitmap una come stiamo vedendo adesso sulle curve di livello l'altra riferita alla mappa estratta non da google map il mio consiglio è di lavorare con bing map per il problema dell'ortofoto diciamo così che viene risolto appunto con bing map queste due aree rappresentano un'area simile io credo che fosse di 500 metri quest'area di raggio quindi non mi vado ricordando sinceramente a memoria però potrei sbagliare quindi andiamo a fare una prova prima di continuare andiamo a mettere le cose come si deve facciamo un caso studio reale o se non altro realistico diciamo che questa porzione sono 500 metri per 500 metri come andiamo a fare innanzitutto andiamo a decidere quanto grande mi serve fare il passo in verticale ricordandoci che le tre griglie su cui dovremo fare il calcolo finale sono al massimo queste quindi al massimo 250x250x25 allora andiamo a inserire voglio ricominciare da capo perdonatemi se sono partito in quarta con il dem però il dem di cosa era giusto che voi abbiate un input precedente quindi questa volta vado a creare un nuovo progetto da zero praticamente ricostruisco i valori di default diciamo che per fare 500 mille metri ecco 500 di raggio sono mille metri per mille metri avrò bisogno di che area non lo so allora se impostassi il massimo possibile 255x25x25x25x25x25 diciamo 255 mille metri perdonatemi diviso 255 mi chiede un passo di circa quattro metri quindi se avessi un passo di 4 metri per 255 coprirei 1020 metri mi sembra esagerato, mi sembra esagerato perché 4 potrebbe essere una via di mezzo 4 metri ancora un po' piccola forse per la scala di dettaglio a cui ci stiamo avvicinando da subito quindi io andrei a mettere, lavorerei con 5-10 metri anche volendo quindi tra 5 e 10 metri, 5-8 metri, 10 metri e andiamo a vedere per fare 255 diviso 10 metri, vabbè abbiamo 25 riusciamo a fare diviso 8, 255 diviso 8, era 256 diviso 8 in realtà avremmo dovuto fare 31, no non ci piace, 255 non è divisibile per nient'altro che per 5, andiamo a vedere troviamo una misura un po' più abbordabile se fosse quella da 150, no scusate, 1000 diviso 150 diviso 15 fa 6,6 periodico fatto 100? 150? cioè 1000, è fatto 100, vabbè però ho fatto diviso 15 scusa, e ci ho tolto lo 0 dopo, vabbè comunque 1000 diviso 150 sempre 6,6 fa mi ero accorto dell'errore però grazie comunque per quanto riguarda 1000 metri è una brutta misura se facevamo un 1020 forse era più facile vabbè, diciamo che sono 1020 metri sono 1000 metri e teniamo una scala di 5 quindi in 255 diviso, scusate, 1000 metri diviso 5 abbiamo 200 200 dovrebbe rientrare nella scala 250 non possiamo farlo rientrare nella griglia da 150 per 150 ma in quella 250 per 250 sì quindi facciamo 250 per 250 per ora ci teniamo 25 in alzato poi vedremo che dovremmo sicuramente accorciarci e andiamo a inserire 5 per 5 e per quanto riguarda la verticale eh, lo scopriamo subito allora, vediamo già in pianta avendo estratto le curve considerando il tevere a 0 facciamo 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 metri 35, 40, no, 35 metri l'elevazione massima solo del terreno quindi, in verticale eh, allora, abbiamo 35 metri diciamo 40 metri abbondando abbondando 40 metri 40 metri quindi, eh, per tornare a una misura per esempio diviso 5 abbiamo bisogno di 8 caselle però mi sa che possiamo abbassare un po' la ehm ne abbiamo bisogno abbastanza fino a 25 ne abbiamo quindi ne ne possiamo sfruttare qualcuna in più quindi se diviso 20 ecco facciamo 40 diviso 20 otteniamo un passo da 2 beh, che ne dite? per una volta forse ci va ci va bene Luca, tutto ok? tutto ok? ok ok allora, teniamoci il passo da 2 forse ci è andata bene forse ci è andata male poi scopriamo un passo da 2 riusciamo a fare 20 20 caselle quindi muovi chiedo no, scusate sopra ho sbagliato a scrivere non 250 ma 200 avevamo detto ecco qua una griglia di 200 per 200 per 20 con passo 5,5,2 quanto sarà grande? quanto svilupperà in metri? qualcuno che mi fa il calcolo al contrario se ho fatto tutto per bene per vedere anche se sono stato in grado di farvela capire questa cosa che è macchinosissima me ne rendo conto scusate lo sforzo che vi chiedo non hai capito come hai fatto i calcoli ho benissimo non l'ho capito manco io forse perché non sono capisco di non essere forse troppo chiaro nello spiegare questa cosa io ho fatto il calcolo su questo in questa maniera qua 200 per 200 per 20 sono i cubetti che effettivamente ho ho 200 cubetti per 200 cubetti per 20 cubetti diciamo così 20 quadratini ognuno di questi quadratini è largo 5 metri per 5 metri per 2 di altezza quindi mi svilupperà 200 per 5 per 200 per 5 per 20 per 2 queste sono dimensioni o meglio 200 per 5 e guarda un po' fa mille metri 200 per 5 che è l'area in pianta la lunghezza in pianta della mia mappa su x 200 per 5 di nuovo su y e 40 e 40 scusate 40 totali che abbiamo visto dall'altezza richiesta dal file in cui ci sono le curve di livello ottenute come 2 metri moltiplicate per 20 quadratini in altezza quindi 20 per 2 ovviamente 40 è più chiaro adesso questa cosa tutto questo riesce a entrare all'interno della maglia 255 per 255 per 25 la maglia di calcolo finale è a scalare non vuole sapere quanti metri sono vuole solo sapere quanti cubetti hai però capite bene che 200 per 200 per 20 è più piccola di 255 per 255 per 25 ovviamente non provo neanche a metterla in quella 150 per 150 per 30 perché non c'entrerebbe no? ovviamente quindi bisogna capire quanto è grande il mio modello quanto è grande il passo da adottare in orizzontale in verticale vi ricordo di tenere in orizzontale un passo regolare quindi una maglia quadrata e a questo punto il gioco è fatto ok? applico finalmente dovrei avere delle modifiche anche in 3D ma non succede ma se torno nella visualizzazione bidimensionale guardate quanti quadratini sono diventati mi ha cancellato nell'aver fatto questa mossa anche il demo precedentemente impostato benvenga perché tanto era fatto a caso e vado a importare la mia mappa la mappa che inserirò a questo punto con su digitize select bitmap sarà quella riferita alle altezze che io ho chiamato curva bitmap eccola qua allora qui ci vuole un sacco un sacco di pazienza perché sappiamo che le curve io qui ho inserito anche delle ombreggiature per capire meglio da subito chi sta più in alto rispetto alle altre curve però potete usare l'espediente che volete colorarle piuttosto che inserire dei numerini scegliete quello che volete siete liberi l'importante è che voi stessi siate in grado di interpretare il vostro il vostro disegno e dovrete disegnare con estrema pazienza le curve di livello o meglio le altezze del terreno quadratino per quadratino quindi io abbiamo detto che il tevere è a zero metri sappiamo che ogni intervallo ogni taglio è ogni due metri quindi sicuramente io posso usare due quattro sei otto come valori ma non potrò usare cinque nove ottantuno perché sono dispari quindi se ho curve da ecco già qui ho fatto un errore qual'errore ho fatto vi ho detto che queste sono tagliate ogni cinque metri che faccio niente ho sbagliato devo ricominciare primo primo problema da risolvere prima di iniziare e quante volte vi capiterà di fare di fare questo errore prima di di aver trovato la quadra allora se questa è da cinque metri mo due sono le cose o d'oretta al dam o d'oretta alle altezze degli edifici perché se io adesso inserissi cinque metri che problema a che problema incorrerei che mo il dam è perfetto perché casca ogni cinque metri ma i building quindi io sinceramente per non sapere leggere e scrivere ho fatto volutamente questo errore per farvi farvi capire anche questa cosa qua mi ricordo di averlo fatto anche all'interno del video però non ve l'ho detta questa cosa perché non non vi ho parlato ancora del building mi pare o si vabbè fatto sta che insomma ve la spiego adesso questa cosa qui purtroppo dobbiamo trovare un compromesso o vince il building o vincono i dam o vince il dam io sinceramente vi consiglio di far vincere per una volta il building quindi teniamo per buono il DZ di 2 ma andiamo a scrivere 5 qua sul sulla casellina di testo mi dite voi ma mi ha appena finito di dire che lui l'approssima e io vi rispondo e tanto l'approssima lui a noi che ce ne interessa il lavoraccio se lo risolve lui lo approssimerà probabilmente a 6 metri andrà bene lo stesso dovrò cominciare a disegnare con un bel po' di pazienza le mie aree fino a completare tutte le 200 per 200 tutte le 200 caselle quando avrò finito con posso anche zoomare poi non ce la fa caricare ecco quando avrò finito con quelle da 5 posso passare con quelle su quelle da 10 e dire no aspetta queste sono da 10 e continuo a disegnare tutto quanto il modello fino a quando l'ho riempito qui ho fatto un errore e dove essere da 5 sono due le cose a questo punto o con il tasso destro ci clicco e le cancello oppure devo utilizzare cioè posso sovrascriverle per esempio riproduco l'errore no però posso sovrascriverlo con il 5 e lui mi andrà a mettere una casellina da 5 come potete vedere quel numerino indica appunto l'elevazione di quella casella in quel punto allora quando avrò completato tutto quanto il mio la mia mappa praticamente sarò vecchio però felice toccherà continuare col prossimo strato il prossimo strato è quello dei building i building appena vado a costruire i building io poi non mi devo più interessare di come è fatto il terreno ma dovrò interessarmi di dove sono disposti questi building quindi mi farà gioco forza andare a caricare non più questa mappa delle curve ma l'altra mappa che è mappa bitmap io e la fantasia con i nomi qui ho inserito una mappa che in realtà potrebbe essere mute potrà tornare mi utile anche quando dovrò inserire la vegetazione piuttosto che il materiale del il materiale del del suolo o dei tetti e così via quindi da ora in avanti per fortuna nostra useremo solo quest'altra mappa con un bel po' di pazienza andrò a disegnare il building appunto come ho fatto prima per il dem casellina per casellina dove incontro quel building io so perché ho fatto un sopralluogo e quindi mi sono segnato tutte le altezze degli edifici perché ho un CTR che mi identifica tutte le altezze degli edifici perché ho un modello tridimensionale per esempio faccio sempre riferimento a quello che ci offre che ci offre Google sempre andando a Roma il modello tridimensionale dove sta dove sta come si estrae ecco vado su satellite zoom decisamente su Roma in una parte eccola qua già la possiamo vedere col tasto control attivo credo sì col tasto control attivo dico bene magicamente Roma compare tridimensionale e posso fare una una certa di di semplificazione lo sappiamo che gli edifici a Roma l'abbiamo pure notato non sono alti 3 metri a piano però con una buona approssimazione tanto sbagliato che sbagliato l'abbiamo capito possiamo dire che ogni piano è di 3 metri e quindi all'interno della nostra area andare a capire quanto sono alti i nostri edifici contando appunto le finestrelle in verticale tipo questo edificio qua sarà alto 3, 6, 9 12 metri ok eventualmente quando incontrerò lui inserirò 12 come valore all'interno del top per esempio facciamo finta che questo appunto sia di 12 metri e andrò a disegnare con un po' di pazienza il mio building in tutta la sua interezza allora il problema di cui vi parlavo prima della segmentazione dell'effetto pixelato sia appunto in corrispondenza di edifici che non sono per forza di cose allineate alla griglia quindi il problema qui sorge appunto per questa motivazione qui più l'allineamo meno avremo questo problema di segmentazione diciamo che diamo per buono che questa qui è il nostro building vi faccio vedere adesso altre caratteristiche che possono prendere il building già vi è stato anticipato dalla professoressa Coccirifoni il bottom è fondamentale per restituire l'altezza da terra di questo building quindi se avessi per esempio un edificio sospeso su pilotì piuttosto che galleggiante strallato sulla luna allora andrei a inserire un valore qua sotto per esempio 6 e nel costruire il mio building andrei a costruire dei quadratini che apparentemente sono identici non so perché in altri casi qui mi dovrebbe scrivere anche un 6 per farmi capire che sotto c'è qualcosa questa volta non me la fa vedere ma come vi ho già fatto notare EnvyMet non è una scienza esatta e quindi questa volta non è comparso quel 12 barra 6 per farmi capire che sono sollevati da terra ma se vado nella modellazione tridimensionale nella visualizzazione tridimensionale spero di poter cogliere questa caratteristica non mi si vede niente perché ho sbagliato lo zoom è troppo zoomato torno indietro ehi oh calmati fermo ok sono tornato troppo indietro diciamo uno zoom del genere come in 3D view vediamo se adesso vediamo qualcosa in più si adesso vediamo qualcosa in più non trovo però i miei edifici dove stanno sono scomparsi gli edifici ah eccoli qua e vabbè ci vuole un sacco di pazienza per muoversi all'interno della 3D view eh oh ho costruito però degli edifici a ponte come potete notare dove 12 rappresentava l'altezza l'altezza sei l'altezza da terra ma ecco si è perso tutto ritorniamo in 2D ma se io avessi costruito degli edifici in corrispondenza guardate il DEM dove prima avevo costruito il DEM allora il DEM l'avevo costruito in queste da queste parti qua lo facciamo rivedere per esempio qui mi tengo il dito sopra come riferimento quando vado a costruire un building per esempio ancora alto 12 al top e 6 a terra vado andassi a costruire una cosa del genere questo 6 e questo 12 non sono riferiti allo 0 assoluto per nostra fortuna ma sono riferiti allo 0 del DEM quindi tornando nella visualizzazione 3D io vedrei le stesse dimensioni a partire dall'altezza che avevo messo 5-6 metri quant'era l'altezza del DEM in quel punto questa cosa è una cosa molto importante perché ci fa capire che possiamo correggere il DEM se abbiamo sbagliato qualcosa gli edifici ci si caleranno sopra essenzialmente è uno strazio questo questo zoom vediamo se 3D mi farà vedere niente eccola ecco l'ho trovata l'ho trovata ci ho messo 3 ore a caricare però c'è allora mi risponde con una lentezza assurda con purtroppo questa configurazione che ho andiamo a trovare andiamo a trovare eccoli qui spero che voi abbiate dei computer che rispondano meglio del mio specialmente tu ok dice ma io non lo vedo il DEM per attivare il DEM in 3D c'è il tastino e mi fa capire ecco qui che gli ultimi edifici che ho costruito se non altro spero ecco ne faccio nuovi perché non so dove avevo costruito prima sono alti 6 metri a partire dai cubetti gialli che sono quelli che rappresentano appunto il DEM ok anche questo per tutta quanta l'area quindi una volta che ho costruito gli edifici ho costruito il terreno che altro devo inserire posso inserire per esempio la vegetazione la vegetazione fa riferimento a andando ovviamente nella scheda dedicata fa riferimento a piante presenti già nel database sono più che sufficienti spesso nei nostri lavori queste piante ma all'occorrenza vedremo come inserirne di nuove queste piante sono divise in due tipologie simple plant che possiamo attivare ecco se faccio vedere solo le simple plant no eccole non scherzavo le simple plant le possiamo suddividere ecco tra queste simple plant dove c'è anche il voi non l'avete anzi scherzo voi non avete il grass non avete l'erba poi ve la passo perché voi ce l'avete bella notizia l'anno scorso non ce l'avevano vabbè meglio così meglio così avete anche aspetta avete GG GB è la stessa configurazione simile a quella che vedevo io ma come sono felice di questa notizia l'anno scorso in realtà non so perché nel database dei ragazzi mancavano queste informazioni non abbiamo sopperito noi fornendole abbiamo spacciato erba ecco se si può dire digitale però allora sono suddivise in simple plant e 3D plant cosa cambia tra una simple plant e una 3D plant cambia poco nelle simple plant essenzialmente abbiamo una conformazione sempliciotta della pianta dove questa è identificata come un grosso parallelipipedo verde piuttosto che un banto erboso le 3D plant invece sono caratterizzate da da una chioma più o meno definita a seconda della scala su cui stiamo lavorando perché vi ricordo che la griglia sempre di 5 metri in questo caso però nel raffinarla vedrete anche una miglioria grafica che vi fa capire quindi quanti calcoli in più dovrà fare anche all'interno di questa chioma e che abbiamo a disposizione un sacco di di essenze l'abbiamo capito ognuna di queste con delle caratteristiche geometriche diverse ne sto mettendo a casaccio anche all'interno del tevere come potete vedere ma che cosa ci fa preferire l'utilizzo delle delle simple plant piuttosto delle 3D plant allora l'erba sicuramente se dovete inserire un manto erboso sarà più che sufficiente inserire una simple plant magari alta 50 centimetri magari no però raccontiamoci di quello che ci passa il convento perché l'erba essenzialmente dà un contributo minimo rispetto alla canopi di cui vi parlava anche la professoressa precedentemente se invece abbiamo da costruire queste canopi le 3D plant fanno al caso nostro le 3D plant però fanno diventare il calcolo molto più oneroso e in più non solo il calcolo ma anche la visualizzazione tridimensionale potrebbe essere decisamente rallentata quindi l'esperienza d'utilizzo di Spaces potrebbe essere rallentato io non mi sono mai sforzato più di tanto a inserirne proprio per questo motivo ho un computer lento non me lo posso permettere spero che voi possiate invece nella visualizzazione bidimensionale queste 3D plant prendono anche come vi accennavo precedentemente una conformazione spaziale quindi sono identificate da ecco qui non mi si vede perché si confondono i colori allora vado un attimo a spegnere la mappa come potete vedere sono conformate da un quadratino che ne identifica con con una sigla l'essenza utilizzata e non so se si riesce a capire ma c'è un cerco di zoomare più possibile c'è un cerchietto verde più chiaro che identifica voi lo vedete? lo vedete? ok che identifica la grandezza della chioma quindi quando andate a inserire delle simple delle 3D plant non inseritele così perché di default non la vedete la chioma perché quel simpaticone di EnvyMet che fa inserirà la chioma solo dopo aver riaggiornato la view la viewport quindi al creare per esempio al modificare per esempio di uno zoom vedrete che io ho costruito delle chiome degli alberi con delle chiome una a fianco all'altra allora io quindi che posso fare? posso inserire un albero zoom avanti e dietro vedo che questo albero mi prende effettivamente tre quadratini e quindi andrò a inserire uno ogni due questo albero per avere una chioma una canopifitta altrimenti incorro appunto nella sovrapposizione di queste di queste alberature creando problemi non tanto a livello risolvete tutti i problemi bioclimatici del luogo ma create un grosso problema per voi ricordandovi che l'onerosità di calcolo cresce sempre di più all'aumentare delle 3D plant oltre le building le le 3D il dem le piante io posso inserire degli elementi se ho la licenza come come voi avete degli elementi particolari chiamati single wall su questo apro una parentesi un po' particolare cosa è un single wall allora nello scenario che contraddistingue noi architetti siamo abituati a vedere edifici chiusi più o meno sempre chiusi per esempio questo edificio qua è un volume chiuso dove noi siamo all'interno ed è confinato da pareti verticali orizzontali questi sono perfettamente rappresentabili con i building all'interno del modello di Envimet ma se avessimo se volessimo vi faccio un esempio banale ma efficace se volessimo fare costruire il modello di Envimet del padiglione di Miss Van Der Ro a Barcellona che è costruito da piani da setti quindi uno spazio aperto coperto così lo definiremmo se fossimo dei progettisti come faremmo come un building un building come abbiamo detto costruisce uno spazio sempre chiuso ecco viene in nostro aiuto il single wall ma che succede se clicco su single wall ecco succede che vengo avvertito che io sto disegnando solo nello spazio bidimensionale allora che dite voi allora vado in 3D e comincio a disegnare il single wall vado tra l'allero tra l'allava vado in 3D lui mi deve caricare tra l'altro tutte le piante nella 3D view vi anticipo perché tanto sarà lentissimo non sarà sufficiente andare in 3D non è questa la richiesta che mi sta facendo lui mi chiede di andare in un modello davvero tridimensionale quindi uscire dallo spazio 2,5D così definito lo spazio su cui cominciamo a lavorare su Emimet appena lo apriamo entra è bello che bello ragazzi che soddisfazione Emimet è morto e si spesis si si può salvare ma non si può tornare indietro voi pensavate che il CTRL Z era la soluzione digitale a tutto quello che no in questo caso non esiste il CTRL Z scusate se vi devo dare a brutta notizia così però si non è mai stato implementato uno perché niente sono credo proprio masochisti i programmatori due in realtà no è proprio difficile implementare una funzione come il CTRL Z per programmatori homemade come purtroppo è il programmatore che ha costruito questo programmone che ha dell'incredibile dal punto di vista del calcolo quindi un vanto comunque glielo dobbiamo fare glielo dobbiamo allora per il salvataggio è proprio qui interveniva il mio pippotto sul 2D 3D per il salvataggio esistono due comandi dedicati come già potete immaginare sono il save us save model us e save model e tra parentesi vedrete 2,5D proprio perché fa riferimento a quella dimensione pseudo tridimensionale su cui abbiamo lavorato fino ad ora se quindi andiamo a salvare un file in questo caso 2,5D vabbè save us scusate mi sono dimenticato nel fatto di ricaricare anche questa volta il progetto andiamo a salvare andiamo a salvare dove lo andiamo a mettere siamo costretti a doverlo andare a mettere dove sta la cartella che vi ho mostrato prima quella di MVMetProject nel vostro caso potrebbe essere diversa quindi andiamo su C MVMetProject prova va e scriviamo la mia prima volta con mettete save model house eh sì perché giustamente anche questo è un piccolo bug di solito siete siete aiutati voi nei programmi quando mettete per la prima volta save lui dice sì ma dove se la fa sta domanda no Spaces non se la fa sta domanda sono fatti i vostri dice no non me l'hai detto dove vabbè non faccio niente quindi save model house in questo caso vi porta a salvare il vostro primo modello come vi ho fatto il mio primo INX vi ricordo l'ho salvato in C MVMetProject prova voi salvatelo nel vostro progetto ma fate attenzione a questa cosa altrimenti non partirà mai il calcolo alla fine della festa dicevamo quello che abbiamo visto fino ad ora vi devo rilevare rivelare il segreto era in 2D benché lo vedevamo in 3D per trasformarlo davvero in 3D c'è un tasto bruttissimo che si chiama convert to detailed design la detailed design è una modalità tridimensionale a tutti gli effetti ci sarà una parte io non credo che faremo in tempo oggi ma ci sarà una parte dei video che io avevo pensato per voi uno in particolare volevo chiamare vivisezione di un file INX dove vado a farvi capire effettivamente cosa succede quando io clicco su converti in 3D il modello apparentemente non è cambiato niente io continuo a disegnare DEM continuo a disegnare building alla stessa maniera di come facevo prima cosa è successo però i DEM i building qualunque elemento che io vado a inserire compresi single wall saranno scoppiati si può dire in una sorta di esplosione per quanto riguarda tutte quante le facce che compongono gli elementi stessi io quindi avrò a disposizione la possibilità di poter modificare non genericamente i wall i roof ma questo questo quadratino che compone la faccia del wall questo quadratino che compone la faccia dei roof e vi faccio capire meglio che cosa significa tra l'altro appena ho cliccato sull'ok ho dato l'ok per la conversione al detele design scoprite che qui è diventato un 3D model ve lo dice tra parentesi io lo vado a salvare da subito andiamo nella visualizzazione 3D scusate siccome il mio modello ci metterà una vita ogni volta solo per per scopi illustrativi io vado a eseguire una sorta di taglio mi faccio un'area piccolina perdonatemi non posso tenermi il 200x200 di prima però sono comunque valide le regole che abbiamo già detto andiamo a effettuare un taglio un taglio con cut area tool ecco qua quindi un'area piccolina piccolina vado in 3D ok su qui posso lavorare rapidamente altrimenti qua veramente facciamo notte è stata è stata attivata nel nel passaggio tra il 2,5D e il 3D la possibilità di settare individualmente i segmenti cioè i quadratini di cui parlavo prima e io posso modificare quindi inserendo due materiali diversi casual in questo caso ma poi lo farrete con più criterio per i wall e per i roof andando a intervenire ecco rosso adesso è il il materiale che vi ho inserito andando a intervenire faccetta per faccetta sopra gli edifici modificando quindi il materiale di quel quadratino come vi stavo parlando non mi piaceva il rosso ci mettiamo il blu il verde cioè il verde sui wall quindi sulle pareti verticali l'arancione è rimasto per per le pareti orizzontali per i roof quando vai sul modello 3D ti fa bianco perché il tuo modello 3D è troppo grande quindi tu c'hai lo stesso problema che avevo io prima dovrai diminuire di zoom nella 2D eh non è stato sufficiente zoom a palla si dezoom a palla e poi ritorna in 3D oppure può essere anche solo un problema di attesa di caricamento se in questa parte qui vedi qualcosa che sta scorrendo 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 dei numeri che vanno avanti lui sta caricando il modello sta leggendo il file INX e lo sta trasformando in 3D spesso è un'operazione complicata specialmente se sono presenti molti alberi tridimensionali nella scena ok quindi potrebbe essere anche solo un problema di lentezza dell'hardware ma diamogli tempo eh ok nel fare la modifica nell'aver messo in 3D il il nostro modello e nell'aver costruito quindi building con diciamo un'accuratezza maggiore sui materiali rispetto anche alle eventuali finestre che possono esserci sugli edifici cosa che però vi preannuncio alla scala del macrogruppo non esiste potrebbe esistere da dove lo vogliate voi alla scala del microgruppo però a livello didattico adesso diamola per buona anche il semplice lavorare in 2.5D quindi senza modificare tutti questi parametri a meno che non abbiate bisogno del single wall che è un elemento purtroppo che può essere che esiste solo nel mondo tridimensionale completo però non significa che poi dobbiate comunque modificare da zero tutti quanti i building che avete già disegnato ok perché sta storto chi? tu o io? eh gira 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 anche in questo senso tasto control e tanta pazienza col mouse con lo shift io non ve l'ho detto però con lo shift effettuo il panning dicevo se dovete inserire elementi come il single wall dobbiamo per forza andare in 3D lo facciamo il single wall a questo punto si comporta almeno nelle impostazioni in un modo simile al wall scusate al building cioè ho due ho due elementi il top e il bottom esattamente come prima imposto due valori a mio piacimento e vado a disegnare dove vado a disegnare in che maniera cioè con quale orientamento lo decido da subito in verticale in verticale su x in verticale su y o in orizzontale quindi sul piano sul piano orizzontale diciamo così imposto la x e vedo che il cursore mi mostra mi mostra un elemento non so se lo riuscite a vedere qui azzurrino che io posso cliccare e trascinare per cercare di disegnarlo non mi compare niente perché non mi compare niente perché la macchinosità di questo programma non ci permette di avere un risultato rapido se non prima di aver impostato un materiale un materiale per le pareti verticali e un materiale per le pareti orizzontali che però voi non avete allora innanzitutto vi faccio vedere rapidamente io ce ne ho ne ho due per esempio ne ho un materiale chiamato casual azzurrino e lo imposterò per i verticali e un materiale chiamato casual rosso che utilizzerò per i verticali anzi no farò al contrario va ok quindi nell'andare a disegnare io vedo comunque qualcosa questo qualcosa come da aspettativa è alta due metri da terra e sette metri al top può essere disegnata su x può essere disegnata su y può essere disegnata su z nell'andare a disegnare su z non so se si riesce a vedere bene ma questa qui è leggerissimamente azzurrina perché vabbè il materiale prevedeva una certa trasparenza magari è plexiglass magari è vetro non lo so però per farvi capire che c'è un distinguo tra le pareti orizzontali e le pareti verticali potrebbe essere anche lo stesso materiale di prima se l'avessi impostato per esempio rosso quindi a seconda della vostra impostazione avrete risultati diversi e andrete a caratterizzare elementi diversi quindi di natura diversa una piccola parentesi sul fall of them molto importante funziona al contrario del building il building a meno che non gliel'avessi detto io avrebbe comunque seguito il them a meno che quindi non gliel'avessi detto io cliccando su questa spunta e non lo farò mai in tutta la mia vita a meno che poi vedremo ci sono dei casi in cui questo è necessario in questo caso per seguire l'altezza da terra sarà necessario sarà necessario inserire questa spunta in modo tale che quando vado a disegnare vedete cosa succede in presenza di un them lui mi alza determinati quadratini in modo tale che la copertura risulta rialzata la copertura piuttosto che il modello in verticale ecco il muro il mio muretto non so se si riesce a capire bene è disegnato in parte rispetto a zero in parte rispetto al dem precedentemente disegnato tutto chiaro finora? ora voi mi dite io pure vorrei provare tutto questo tutto ciò per provare tutto ciò dobbiamo vedere cosa sono i database e come si gestiscono i database ok per quanto riguarda i database questi li ritroviamo sempre nel quartier generale di EnvyMet alla voce data in setting manage database ci clicco posso togliere di mezzo l'headquarter questo lo togliamo di mezzo si apre una finestra con tante finestrelle dentro ancora una volta torna la selezione del mio progetto di default l'ultimo progetto viene caricato quindi siamo già fortunati ad avere prova altrimenti possiamo scegliere comunque quello che ci interessa e in ognuna di queste finestrelle è definito attenzione che una poi sovrasta l'altra se lo dovete trovare è un casino se qualcuna si chiude dovete riaprire tutto quanto il programma per riaprirle vabbè non non vi sto a tegliare troppo su questo spero che in futuro diventi tutto più user friendly anche dal punto di vista dell'interfaccia in ogni caso se avete la licenza potete modificare il materiale del single wall prima ancora però di vedere di vedere questo single wall facciamo un excursus rapido di che cosa possiamo trovare all'interno di questo database allora abbiamo i profili dei terreni abbiamo i soil i profili dei anche qui è riferito ai terreni poi vi farò magari vi darò un chiarimento più dettagliato all'interno dei video i material che sono i materiali veri e propri cemento glass piuttosto che altro poi abbiamo i wall che sono i materiali utilizzati dai building che si distinguono a questo punto dai single wall per una caratteristica fondamentale i building sono costituiti da elementi tripartiti tre strati abbiamo a disposizione tre strati questo non lo posso modificare ne faccio al volo uno io ho fatto una copia ecco questi tre strati sono modificabili in larghezza definendo appunto tre dimensioni diverse io dirò che questo è di un centimetro questo è di 30 centimetri e questo rimane da 10 per un totale di 50 centimetri beh 30 più 10 più non fa proprio 50 però vabbè diamo per buono diamo per buono questa cosa i materiali li posso ritrovare lateralmente qui e semplicemente assegnarli con un drag and drop a questo punto avrò il mio materiale che si chiama si chiama concrete wall ma io lo vado a chiamare ciccio ok e a cui posso dare oltre le informazioni del diciamo del del nome e degli spessori che abbiamo già visto posso dare un colore che lo identificherà all'interno di spaces in modo da non impazzire troppo quando quando andrò appunto a segnare i mari materiali a colpo d'occhio capirò se quello è vetro se quello è legno se quello è concritto e così via questi materiali fanno riferimento al niente meno che alla cartella materiali che abbiamo visto qui velocemente quindi abbiamo detto che c'era il vetro c'era c'era il cemento c'erano i miei user material ognuno di questi però è caratterizzato sempre da una sigla di due lettere e nel caso questa sigla sia ripetuta adesso io voglio fare rapidamente un nuovo materiale questo materiale lo chiamo H2 sapendo che H2 già esiste no? lui mi dice mi mette un triangolino giallo mi dice attento che esiste già un materiale con quella sigla quindi dovete inventarvi una sigla sempre diversa se fate nuovi materiali per esempio mettessi H3 H3 non esisteva a questo materiale assegnerò anche a lui un colore e assegnerò un sacco di proprietà termofisiche fisiche in generale legate alla termica legate alla termodinamica in genere ecco diciamo così dove trovo questi questi valori beh spero che lo troviate li troviate all'interno dei pacchetti che voi andrate a utilizzare nei vostri progetti altrimenti vi toccherà chiamare la ditta che li produce per farvene dare il più possibile questi appunto vi chiederanno ma perché volete sapere da me questa cosa voi gli direte come vi ha suggerito la professoressa che siete architetti e quindi dovete saperlo se non li trovate allora succedono due cose potete venire a chiedere a me io ho un certo database di materiali possiamo attingere a quello purtroppo sono costruiti il mio database è costruito in maniera leggermente diversa quindi con valori leggermente che si chiamano in modo diverso però facciamo in modo di ritrovare tutti quelli che possono servirvi come per esempio la trasmittanza l'assorbanza e altro oppure andiamo per similitudine il vostro legno un legno che si chiama legno tiziocaio non sappiamo il legno tiziocaio che che caratteristiche ha ma tutto sommato è un legno quindi per similitudine metteremo i valori che abbiamo di un legno generico a livello didattico vi dico possiamo accontentarci poi nella vostra vita professionale dovete essere spero potrete essere più specifici e quindi inserire dei valori adatti quindi detto ciò i materiali entreranno all'interno dei wall tripartiti in tre strati ciccio vi facevo ricordare adesso è fatto dal materiale pv dal materiale mh e dal materiale c1 e questo qua potrà essere quindi assegnato a un building e i materiali verranno potranno essere utilizzati anche dai single wall single wall ovviamente avranno non è così ovvio però avranno un solo strato e sono utili oltre quindi a rappresentare diciamo oggetti bidimensionali come pareti quindi se vogliessimo costruire il padiglione di misvanerò sarebbero perfetti monomaterici però devono essere elementi monomaterici perché non c'è una tripartizione a strati come abbiamo visto prima per fare un nuovo materiale clicco su questi concina faccio questo nuovo materiale che si chiama 0.2 0.2 non esisteva per fortuna viceversa se avessi inserito un H2 vediamo se già mi dava problemi no perché ogni scopro con voi che ogni riferimento di due lettere ogni database ID è riferito a ogni elemento quindi H2 era un materiale ma non esiste il wall chiamato H2 quindi siamo fortunati però per non saperne leggere e scrivere io lo chiamo CF non so a cosa può essere riferito questo riferimento al CF potrò assegnare un nome che è Ciccio Wall potrò anche dare una descrizione gli darò un colore utile sempre per l'identificazione all'interno di Spaces e gli dirò ma che materiale è fatto Ciccio ebbè Ciccio è fatto di H2 lo ritrovo qui e quanto è spesso il Ciccio Wall beh il mio Ciccio Wall è largo 2 metri però scusate non posso scrivere direttamente qua 2 dovrò entrare ogni volta nella finestra aprire questa finestrella inserire 2 metri io perché vi dico 2 metri cioè voi avete mai visto muri di 2 metri no quindi non siete mai stati a Roma con me chi è venuto a Roma con me scusate esatto questo potrebbe essere un espediente per disegnare le mura aureliane analizziamo un po' il problema le mura aureliane sono un elemento essenzialmente bidimensionale no monomaterico chi ci frega che quello è largo 6 metri non importa non importa più di tanto almeno perché quello là comunque potrebbe essere rappresentato con un single wall l'anno scorso per forza di cose essendo arrivata la nostra licenza in itinere diciamo a metà fine del corso i vostri compagni non hanno avuto la fortuna di poterlo utilizzare il single wall in questo caso sì ve lo chiedo io sperimentiamo per utilizzare per utilizzarlo come come mura aureliane altrimenti vi toccava fare dei building che rappresentavano quel single wall ma capite che è una forzatura anche per il fatto che vi è che è rappresentato un building sempre da tre da tre materiali ok ok allora detto ciò io che faccio salvo il mio data base e posso chiudere avendo salvato il mio data base qui dovrò ritrovare ciccio wall ma secondo voi è così semplice la questione? no perché? perché lui giustamente non rilegge di default però potrebbe essere sufficiente togliere il mio progetto e ricaricare oh andatevi un attimo di tempo e ricaricare comunque il mio progetto eh vabbè un po' di errori ci stanno sempre ricarichiamo il mio progetto e indovinate chi compare fa la sua apparizione ciccio wall ciccio wall a questo punto potrà essere utilizzato nel comunemente per disegnare per essere inserito appunto all'interno del mio modello piccola e ultima parentesi sui single wall questi non possono essere disegnati in 2D brutta notizia per voi lo so perché muoversi in questa brutta copia di 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 minecraft non è proprio semplice mi rendo conto però purtroppo è così e ce lo dobbiamo tenere bella notizia e che comunque almeno il grosso di tutto quello che abbiamo visto oggi potrà essere importato tramite grasshopper quindi partendo dal modello tridimensionale del vostro terreno partendo dal modello tridimensionale dei vostri edifici potremmo disegnare gran parte del diciamo della nostra griglia togliendoci dall'imbarazzo di doverla riempire 200 caselline per 200 caselline ok almeno questo ve lo posso ve lo posso anticipare e ci saranno un video adatto uno più video vedrò quanti ne serviranno e sicuramente anche un'altra un'altra parte live tipo questa dove possiamo possiamo diciamo parlare a tu per tu quindi potete rivolgermi tutte le domande a questo punto qualcuno di voi è già morto qualcuno invece ancora sopravvive vi chiedo che vi posso chiedere vi chiedo niente di iniziare a lavorare con le informazioni che abbiamo più o meno ottenuto dalle mappe da dei vostri rilievi sul posto iniziare a costruire un modello tridimensionale che non dovrà essere non dovrà per forza essere pronto per la prossima volta non ve lo sto chiedendo anche perché non vi ho fatto ancora vedere la parte del running che per oggi vi abbono vi mi impegnerò a fare un video ad hoc e soprattutto anche ancora una volta a farvelo vedere live però vorrei da parte vostra diciamo un piccolo sforzo su questa cosa qua per macro gruppi costruire il vostro modello e verificare che possa funzionare un'ultima cosa prima di lasciarvi anche fare qualche domanda per verificare se il modello potrà funzionare durante il calcolo è utile andare sul modello inspector e valutare se queste due voci siano verdi piuttosto che comunque ci dicano che c'è spazio sufficiente per il calcolo vi rimando al video precedente che ho fatto per capire bene come muoversi e farli diventare entrambi blu entrambi verdi a qualcuno non comparirà mai in verde non so perché non fa niente ma l'importante è che ci sia scritto che sia sufficiente ecco a questo punto per ora chiudo qua altrimenti moriamo tutti anche perché non vi ho concesso neanche una pausa però chiunque abbia delle domande io sto una mezz'oretta qua a disposizione e quindi cercherò di di crearvi più dubbi di quelli che avete ok no scherzo